Senti scusate, devo fare un gioco. Guarda, una previsione, la metto qui, ancora prima di fare l'effetto. Dimmi un numero da 1 a 4. Ma qualsiasi numero? Qualsiasi numero. Due? Guarda, dietro ad ogni numero c'era un colore. E guarda, dietro al numero 2 c'è il pallino verde. Lì la mia previsione. Gira la previsione. No. No, è possibile. Non è possibile. Come tu devi sapere?